La DIA, la Direzione Investigativa Antimafia di Catania, ha eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Ragusa, sezione misure di prevenzione di sequestro preventivo di beni nei confronti di Sebastiano Di Stefano Ragusano, di 58 anni, per un valore di circa 3 milioni di euro. L'uomo è accusato di reati legati al narcotraffico, era già stato condannato per detenzione illegale, porto in luogo pubblico di materiale esplodente, evasione fiscale, riciclaggio di valori di bollo contraffatti, in particolare la DIA nel Mirino 6 imprese, delle quali 4 nel settore di servizi di onoranza e funebri, una nel settore di bar ristorazione e una che si occupa di servizi di parcheggi. Sono stati sequestrati conti bancari, diversi mobili nel territorio di Ragusa, ma anche in provincia e anche alcuni automezzi. Grazie a tutti.